Giovedì 13 aprile, buongiorno e bentrovati. Anche quest'oggi il consueto appuntamento con la rassegna stampa nazionale. Faremo una revisione di tutte le notizie dai principali giornali nazionali, gli aggiornamenti in tempo reale dal web e in ultimo tutti gli approfondimenti dalla Capitale. Elisa Mariani studio con voi, partiamo dunque leggendo la prima pagina del messaggero. In apertura l'economia, lavoro, tasse giù, l'IRPEF non cala. Parliamo del documento di economia e finanza, nessuna revisione delle aliquote ma c'è il taglio del cuneo fiscale, sia il reddito di inclusione dalla manovrina a 5 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA. Catasto, niente riforma, solo riassetto. Caso Consip, due colleghi contro il capitano del Noe che falsificò il verbale su Tiziano Renzi. Ci sarebbe dunque una svolta dell'indagine sul dossier alterato. Al centro pagina invece la fotonotizia che ritrae le misure di sicurezza intorno allo stadio di Dortmund prima della partita Borussia-Monaco di Champions. Sarebbe infatti ad opera di un terrorista l'attacco avvenuto contro i calciatori dell'autobus del Borussia Dortmund. I tre ordigni esplosi contro il pullman che trasportava i giocatori del Borussia sono un atto terroristico. Arrestato un islamico, un iracheno di 25 anni, di Wuppertal, perquisita l'abitazione di un tedesco di 28 anni. Entrambi sono sospettati di legami con l'Isis. E sarebbe proprio ad opera dell'Isis la rivendicazione colpire le celebrità pagane, i VIP nel mirino del califato. Passiamo alla politica estera. Attenzioni, USA-Russia sul futuro di Assad, ma si indaga sui gas. Tigerson vede Putin. I rapporti ai minimi, ma ci sono spiragli. Le parole di Trump. Il raiz è un animale. USA e Russia via libera all'inchiesta ONU sui gas in Siria, ma niente accordi su Assad. A Mosca, Tigerson, prima incontra Lavrov, poi vede Putin. Il segretario di Stato USA, ci sono spiragli. Ora ci capiamo meglio. Anche se il presidente Donald Trump lancia un altro a fondo, il raiz è un animale. Intanto il premier cinese Xi gli telefona. sulla Corea serve una soluzione pacifica. Al taglio basso, campagna della Camera, un trend di Pasqua, la politica che salva il tenero agnello. Che cosa diceva Niccolò Machiavelli? Che il principe deve essere volpe e lione. Errore. Si è scoperto in queste ore che il buon politico deve essere agnello, o meglio gli conviene associarsi, carezzare, fare gli occhi dolci, agli occhi dolci, alla tenera creatura predestinata al pranzo di Pasqua. Passiamo alla prima pagina della Repubblica. Anche qui in apertura l'attentato a Dortmund. La pista islamica. I calciatori dovevano morire. Arrestato un iracheno. Caccia al complice. Le parole della Merkel. Attacco ignobile. Lo Stato islamico odia il calcio. Ed è una delle manifestazioni più nette della sua visione totalitaria. Dal 2001 in poi la posizione dei terroristi fondamentalisti nei confronti dello sport più diffuso nei paesi musulmani si è sempre più radicalizzata. L'enorme idrante blu notte sbetta sulle dozzine di camionette della polizia parcheggiate ai bordi dello stadio. Un mostro inquietante, ma la marea nero-gialla dei tifosi vuole buttarsi velocemente alle spalle l'incubo del terrorismo. Passiamo all'economia. I numeri e la realtà. La resa dei conti arriva in autunno. Lo spread a quota 211, livello più alto degli ultimi tre anni. Non è il miglior benvenuto al pacchetto Gentiloni-Paduan. Certo, i mercati fibrillano soprattutto per l'incertezza del voto francese del 23 aprile. Ma diciamolo con franchezza. Il combinato disposto, manovra aggiuntiva, documento di economia e finanza, Piano nazionale delle riforme, non scalda i cuori e neanche i cervelli. Quei test raccontano un paese sospeso tra due opposti. Crisi all'Italia. Pronto lo scudo del governo. Il governo prova a salvare all'Italia. Per la compagnia c'è la garanzia pubblica firmata in vitalia, ma manca ancora l'accordo sindacale dopo che ieri l'azienda ha interrotto le trattative. Ancora caso Consip, parla Woodcock. Un grave errore, nessun complotto. L'intervista invece a Papa Francesco. Il mondo fermi, questa guerra a pezzi. Le parole del Papa. Violenza senza scopo che provoca vittime e migranti. Io sono un peccatore tra i peccatori. Dobbiamo riconoscere le nostre colpe. La Chiesa, i vescovi e i preti devono sempre servire, andare incontro a chi è scartato. E ancora la nuova tendenza da parte della politica. Non è la prima volta che gli ovili aprono le porte alla politica italiana e segnatamente a Silvio Berlusconi. Gli archivi conservano uno scatto di Veronica Lario mentre giocava con i figli e due candide caprette. Da Berlusconi a Boldrini, la politica degli agnelli. Se la pedofilia è salvezza, il libro inaccettabile di Siti. Il protagonista dell'ultimo romanzo di Walter Siti, Bruciare tutto, è un prete pedofilo e anche se l'unico rapporto sessuale completo che ha vissuto con un bambino risale a molti anni prima quando ancora non aveva preso i voti, Don Leo non può fare a meno di pensare al sesso ogni volta che vede un bimbo. Don Leo prega, digiuna, combatte una lotta di cui cerca di non far trapelare nulla all'esterno ma l'ossessione è più forte di qualunque cosa, fede compresa. Dio e amore, sì. Ma che tipi di amore? Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui in apertura la politica estera. Trump-Putin, la lite siriana. Il leader russo, rapporti peggiorati, poi prove di dialogo con l'inviato USA. Prima lo chiama un animale malvagio, poi in serata Donald Trump arriva a definire Bashar al-Assad un macellaio rivendicando le bombe sulla Siria. Un atto che la Russia, alleata di Assad, non ha digerito e fa dire a Vladimir Putin che i rapporti tra le due potenze sono peggiorati. Al centro pagina la fotonotizia che ritrae i giocatori del Borussia Dortmund prima della partita con la maglia dedicata al compagno di squadra Bartra, ferito nell'attacco. Si segue la pista del terrorismo islamico per l'attentato dell'altra sera a Dortmund contro il Pullman che trasportava i calciatori del Borussia alla partita di Champions contro il Monaco. Arrestato un presunto attentatore, si tratterebbe di un iracheno. Taglio alto, passiamo all'economia. Niente taglio IRPEF, stretta sulle agevolazioni, meno imposte sul lavoro e tassa per Airbn. Salta l'annunciato taglio dell'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, ma si va avanti con la riduzione del peso dei contributi sociali, a cominciare da giovani e donne. Ecco quali sono le novità del DEF, il documento di economia e finanza, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Previsti bonus fiscali legati ai redditi, la cedolare secca sugli affitti Airbn e la revisione dei canoni per le spiagge. Ancora caso Consip, nuove accuse al NOE. In chiesta Consip, due carabinieri smentiscono il capitano. I PM di Roma ordinano nuovi accertamenti sul NOE, nucleo operativo ecologico, ma in quello che è diventato uno scontro tra le procure di Roma e Napoli, ieri il capo dell'ufficio partenopeo ha ribadito. Fiducia negli investigatori del NOE. E per la rubrica Storie e volti, il coraggio di un carabiniere, Giancarlo Scafuri, comandante provinciale dei carabinieri a Reggio Calabria, alzando sull'altare la foto di... Non ha sfidato solo l'andrangheta, ma anche l'ignavia della cosiddetta società civile. Passiamo alla prima pagina del tempo. Si parla di Roma, nei guai fino al crollo. Il dossier shock, a rischio 8 case su 10 a Roma in caso di terremoti, alluvioni o frane. Ecco la mappa della paura. In città 20 zone rosse, gli esperti alla giunta raggi fate presto. Roma a rischio crollo. Gli immobili della capitale, soprattutto quelli storici, meritano attenzione, monitoraggio costante e interventi di adeguamento. Ben l'80% degli edifici, infatti, supera gli 80 anni di età e questo li rende fragili e a rischio in caso di terremoto e non solo. E se Milano ha già previsto un piano pluriennale di intervento, Roma è in ritardo. A lanciare l'allarme, l'ordine degli ingegneri della capitale. La Boldrini ospita le pecore, bestie alla camera. Tra Agnelli e Biberon è tornato il buon pastore. Silvio Berlusconi sta cercando di arruolare Giorgia Meloni come stesso agnello del suo zoo politico familiare. L'ha portata ad Arcore. Non so se anche lei abbia dato il Biberon, che ha esibito con gli altri Agnellini. Tantomeno sappiamo se lei si sia abbeverata o se si sia dichiarata intollerante al lattosio berlusconiano. Al seguito di Giorgia verrebbero poi i suoi fratellini da latte. Oltre loro, Berlusconi, che pur sembrava ormai in carta pecorito o estracotto, sta riportando nell'ovile altre pecorelle smarrite, già fuoriuscite e se ne sta incapretando altre, a cominciare da Agnellino Alfano e dal povero capro sacrificale Stefano Parisi. Con quest'ultima notizia di politica ci fermiamo per una brevissima pausa. Ci vediamo tra poco con gli aggiornamenti sul web.